Perché avete deciso di accogliere l'invito del sindaco Brusco? Perché siamo in un momento drammatico per il nostro paese, per l'Italia, per Vibbonati e per il gruppo di Policastro. Usciamo fuori da un'emergenza che è un'emergenza non più sanitaria ma anche di natura economica. Abbiamo un'estate alle porte con un'incertezza totale per le imprese turistiche, per i lavoratori stagionali, per le attività commerciali. E crediamo che questo sia il momento della responsabilità e non della battaglia politica. Dallo scorso anno non è sfuggita la sua vicinanza al sindaco? È già da un po' di tempo che collabora con lui. Io interpreto la politica, anche il ruolo di opposizione, l'ho sempre interpretata fattivamente per dare delle risposte. Villa Mare e Vibbonati hanno dei problemi cronici ormai che si ripropongono da diversi anni. Uno di questi problemi è il problema dell'erosione costiera. Io ho dato una mano per la redazione del progetto definitivo per candidarlo alla Regione Campania. Il suo elettorato cosa dice? Io ho fatto una discussione molto serena, aperta, come sono sempre abituato a fare, innanzitutto con le persone che erano candidate con me in lista quattro anni fa. Sette persone comunque mi hanno dato fiducia e mi hanno invitato ad andare avanti. Ho parlato anche con, diciamo così, tra virgolette, una battuta, con i grandi elettori e penso che sia arrivato il momento di dare una mano importante perché Vibbonati sta affrontando veramente un'emergenza economica e sociale davvero rilevante. Borrelli vice sindaco? Ma questo ancora non lo so. Io ho dato la disponibilità insieme al consigliere Capano per, diciamo, sostenere l'amministrazione in questo periodo di crisi. Quindi lo facciamo soltanto nell'interesse esclusivo del Paese e vediamo, noi siamo disponibili a collaborare.